Ciao a tutti, sono Gianni Cagliano, Aleandro, Elvaradero e vi annuncio che da ieri praticamente sta iniziando la distribuzione di Hitmania Dance estate 2024, c'è un brano La Zanzara che avete prima visto un breve trailer e chiaramente sono felice, infatti stavo leggendo adesso che c'è un messaggio in cui mi dice appunto che ad esempio a Biella il disco è già esaurito, per cui addirittura ci sono prenotazioni anche in Germania, per cui notizia ufficiale che già in meno di 24 ore le coppie della Hitmania stanno girando. Allora, io rivolgo un saluto a tutti gli amici del team che hanno contribuito a collaborare con me e per me in questo progetto, a partire dall'Italia Suarez che è stata ospite due volte da Cruciani alla sua trasmissione La Zanzara, a partire da Gianni Idrudo e Mister Fechifichi, a Marco Ferracini arrangiatore di Cristiano Malgioglio, a Pietro Lettieri che è il produttore dall'Italia Suarez, a Sergio Peretti e a Roy Paradini che lo conosco dal 2016 e ha vinto a tali e quali a gennaio 2023, per cui siamo in una situazione che è forte e questi due voci, l'Italia Suarez e Roy Paradini hanno avuto l'umiltà di collaborare e di fare un progetto dove c'è stata la serenità come atmosfera principale, l'ho anche dichiarato ai vari giornalisti perché questo disco avrà un peso pubblicitario notevole in provincia di Vercelli e anche regionale e anche nazionale. La Hitmania, la sanno tutti, è una compilation favolosa e storica, ha fatto fuori una pacchata di successi nell'arco dell'anno, per cui da Gigi Daga a non finire. Io volevo solo dire due parole ancora per chiudere per quanto riguarda il mio intervento. Allora, se volete prendere la copia la trovate nell'edicro, la trovate nella Feltrinelli Mondadori, nei negozi di dischi, negli autogreen, nei megastore, la trovate. Dovete solamente cercare Hitmania Dance Estate 2024. Lo ripeto, Hitmania Dance Estate 2024. Poi con la SAR abbiamo fatto un singolo che uscirà online internet a giorni. Le orchestre o chi vorrà prelevare la base della canzone lo potrà fare tramite il canale SAR, dove appunto metteremo la base. E chiaramente la vendita è fisica con la compilation e online col singolo. Io da parte mia un grazie, pure io chiaramente sono rimasto sorpreso perché non era scontato che uscisse la zanzara, che andasse in distribuzione nazionale come è andata bene. Speriamo che il successo delle vendite sia equivalente alla sorpresa di aver prodotto e pubblicato questa canzone, che richiama la zanzara, di cui io onestamente che sono nato a Vercelli 60 anni fa, fastidiosamente la conosco appunto da 60 anni. Penso anche voi, gran parte anche di voi conoscono le zanzare. Perciò un abbraccio, soprattutto un caro ciao al mio amico Bobby New, praticamente Roberto Gnoi, ha la sua profumeria qui all'inizio del corso di Santiago davanti al Barla Marisa. Cercate di venirlo trovare a prendere i profumi, perché io ad esempio li compro e sono profumi veramente di alta qualità ed è veramente un ottimo consulente per quanto riguarda queste situazioni diciamo particolari di buon odorare ecco. Per cui a lui e a tutta la clientela del suo negozio va un mio grazie anche perché sono tutti i miei amici e amiche anche i suoi clienti o gran parte di loro. Ciao ciao ciao